I gridini sono dei gran famaroni, annunciano sfacelli, revocheremo la licenza e Benetton, spezzeremo le reni alle grandi lobby. Dopodiché, se avessero fatto quella replica sarebbe successo un disastro. Fallimenti di Atlantia, della società delle autostrade, investitori esteri che hanno messo i loro soldi in quelle società che avrebbero giustamente contestato una condotta folle. Fallimenti a catena, crolli in borsa, hanno preso un'altra decisione che comunque ai Benetton, ai quali dovevano spezzare le reni, consentirà di vendere la propria partecipazione, tenerne una parte e incassare miliardi e miliardi. Lo Stato diventerà attraverso la Cassa Depositi e Prestiti socio dei Benetton e quindi anche i costi della ricostruzione del ponte, i problemi delle autostrade, gli investimenti mancati, se li dovrà accollare anche lo Stato. I Benetton prenderanno un sacco di soldi che investeranno dove gli pare. I grillini sono dei buffoni, annunciano sfracelli dannosi e non sanno fare neanche sanzioni giuste. Hanno arricchito i Benetton, questo hai fatto Di Battista, questo hai fatto Grillo, questo hanno fatto i Sansa e tutti gli altri intorno alla corte del Gran Pagliaccio. I grillini sono dei buffoni e i Benetton sono dei ricconi e loro sono al servizio dei ricconi e delle lobby come sempre. Questo vale anche per il casaleggio di ieri, di oggi e di domani.